Arturo Oreste Bucci a Taglie L'etimologia di questa parola del nostro dialetto non ha alcun rapporto con i vari significati di quella italiana taglia. Nel caso in oggetto si tratta di un modesto piccolo arnese del quale, smessosi l'uso, se ne è dimenticato il ricordo. Per Taglie si intendeva un pezzo di frevel, arbusto che malgrado lo sviluppo della bonifica del tavoliere cresce ancora spontaneamente in queste campagne utilizzato in vari modi e avente proprietà di leggerezza e porosità parificabili al sughero lungo una ventina di centimetri tagliato a metà le cui due parti passavano in consegna del datore di lavoro e del dipendente oppure del creditore e del debitore. Con Taglie permaneva un locale primitivo sistema di contabilità seguito a preferenza in tutte le masserie ove le taglie erano in consegna del capo Vuttero amministratore dell'azienda agricola incaricato della distribuzione ai cafoni della razione giornaliera di pane e olio e tenerne regolare conto. In città invece la Taglie era nelle mani delle usuraie le quali nei vecchi tempi pullulavano in ogni rione date le misere condizioni economiche del popolo il quale durante le tristi giornate di disoccupazione invernale contraeva debiti con piccoli prestiti oppure pegnorava e vendeva quel poco di buono che possedeva restando sempre debitore di tali arpie che accumulavano denaro succhiando sangue dalle sfibrate carni della povera gente. Il debito aumentato dell'esoso interesse e maggiorato dalle inevitabili more veniva estinto con rate giornaliere o settimanali se ne teneva conto a mezzo della taglie sulla quale ogni errata si indicava con una incisione abbastanza profonda raggiunto il numero di 10 si riportava sul dorso del pezzo di frevel con altro taglio a forma di croce Grazie 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 Grazie